Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare Game of M, un gioco di carte alla fin fine che ricorda molto da vicino Cards Against Humanity un gioco che fa veramente ridere, un gioco dai contenuti abbastanza forti e infatti non a caso questo gioco qui che mi hanno mandato e li ringrazio veramente di cuore per avermi fornito una copia recensione di Game of M grazie, grazie immensamente, è un onore collaborare con voi è da 3 a 15 o più giocatori, ci potete giocare praticamente il numero è infinito e come resta dietro la scatola la partita dura 30 minuti, dura poco forse anche meno, quando ho imparato un po' le regole dai 18 anni in su, perché è un gioco che ha una forte componente dissacrante sessuale, soprattutto molto spinto anche nelle carte infatti ve le farò vedere un po' così perché sennò YouTube mi chiude il canale direttamente ed è un gioco che è fatto per ridere ragazzi non c'è violenza, sì violenza però tutto buttato sempre a livello di risata, ribattuta però appunto andando a toccare argomenti molto forti come etnie magari sesso, black humor e cose varie è un gioco sicuramente non assolutamente da consigliare a un pubblico piccolo e loro per forza di cose sulla scatola scendono a scrivere da 18 anni in su è un gioco da 3 o più giocatori quindi il minimo numero per giocarci è 3 perché due giocatori si dovranno contendere il campo di battaglia mentre uno farà l'arbitro, figura dell'arbitro che poi verrà passata fra i giocatori vi faccio vedere cosa tratta e ve ne parlo a breve dopo la sigla come dicevo è un gioco questo game of m che ricorda molto da vicino però secondo me da una parte lo batte anche perché c'è delle regole un po' più particolareggiate questo game of m e avremo un campo, un percorso da seguire sembra un po' il gioco dell'oca in cui guadagnando punti potremo mandare avanti il nostro personaggio in daily step fare tutta quanta una strada da noi scelta o imposta comunque per come abbiamo montato la mappa i tagli di gioco e arrivare dal punto A al punto B da un punto di entrata a un punto di uscita guadagnando più punti possibile ed è un gioco carino e divertente perché questo lo puoi mettere a qualsiasi tavolo fai divertire chiunque ovviamente in inglese non è ancora stato tradotto e non so se sarà mai tradotto in italiano comunque è un gioco che potete mettere a qualsiasi tavolo solo come vi ho detto per gli argomenti trattati magari ecco cercate di essere maggiorenne almeno dai 18 anni in su poi nessun problema ci può giocare anche un 16enne però insomma si va a toccare argomenti veramente veramente scottanti vi faccio vedere un pochino cosa c'è dentro unboxing, la confezione veramente carina con questo tipo maiale con il tatuaggio proprio da carcerato da ergastolano mamma qui sulla spalla e game of m vedete anche appunto c'ha l' m sul vassoio e qui vi fa presente che è un gioco per adulti quindi ragazzi lo sapete ma a parte io penso un ragazzo di 14-15 anni nemmeno lo dovrebbe comprare un gioco del genere però ve l'ho detto non è perché è un gioco truce lo è però è tutto buttato a livello di scherzo solo per i temi e trattati appunto è un po' secondo me troppo per non adulti mettiamola così apriamo regolamento del gioco anche qui veramente facilissimo veloce pieno zeppo di esempi colorati come piace a me anche per capirlo tante è un gioco di carte quindi un c'è nemmeno da un pazzie più di tanto e però è spiegato veramente molto bene anche qui in una decina di pagine è finito il regolamento velocizzato vedete ci fanno già subito presente che tipo di persone che siamo lazy sheets scritto qui in fondo questa qui è il regolamento velocizzato perché una voglia dell'SGC quell'altro una specie di partita tutorial qui abbiamo un loro librettino con il QR code insomma per andare sul sito a visitare i loro social e quant'altro e poi abbiamo una bustina con tutti quanti i token che devono essere messi sul campo i segnalini e ovviamente questi segnalini qua giù colorati vanno a rappresentare voi che vi muovete sul tracciato sui tali di gioco che sono questi qua giù colorati e il punto bianco è sempre un punto di inizio o un punto di checkpoint di save mentre invece i punti gialli sono punti di uscita quindi queste quattro mappe le dovete questi quattro tagli dovete sempre andare a collegare che vadano a formare una strada ora ve lo faccio vedere d'accordo fra tutti quanti i giocatori che abbiano un punto di inizio dove metterete tutte quante le vostre pedine e un punto di uscita e qui abbiamo un miliardo di carte perché ovviamente è un gioco di carte divise tutte quante per colori ci sono le carte rosa che sono quelle che ogni giocatore deve averne 10 in mano e con le carte rosa le dovete usare appunto per andare avanti nella storia ogni giocatore ne butterà giù una e il giudice nel momento che è quello che mette in campo la carta grigia dovrà assegnare al punteggio per quella carta che l'ha fatto più divertire ce ne sono un milione guardate qua dentro altre carte rosa altre carte rosa anche perché essendo un gioco che si basa tutto su questo mettercene meno avrebbe una longevità veramente breve carte gialle carte verdi che sono quelle che trovate nel corso dell'avventura e poi alla fin fine le carte grigie queste qua giù nero scuro grigio comunque che sono quelle della storia che vengono messe in campo e quando queste carte vengono messe in campo si dà il via appunto alla calata di carte da parte di ciascun giocatore per vedere come avanti la storia cioè ce n'è un milione vi faccio vedere un po' come funziona allora questa è una mappa montata d'accordo fra tutti i giocatori come vedete i pezzi si staccano quindi la potete montare come vi pare e qui abbiamo un pochino di segnalini vedete colorati no? quindi facciamo conto che ci sono una botta per i daltonici verde, giallo, poi ci metto il marrone, il viola e magari tu anche vi sta travi sopra il celeste qua giù questi qui sono tutti i colori che sono in campo questa è la zona di partenza potrebbe essere anche questa qui questi sono dei checkpoint comunque decidiamo tutti insieme sempre di comune accordo che inizia è questo e l'arrivo invece è questo qua giù quindi per vincere il gioco dobbiamo fare una strada uno potrebbe passare di qua, potrebbe passare di qua, potrebbe passare di qua anche perché poi quando finisci in certe caselle ti danno cose aggiuntive e poi arrivare qua giù in fondo lo scopo del gioco è quello di non solo arrivare qua giù in fondo ma avere anche più punti possibile all'inizio del gioco viene scelto un giudice quindi questo gioco secondo me si fa meglio da i 5 o più giocatori perché sperando appunto a dare regola che non si possano alleare perché il giudice ha questo mazzo nero qui che sono tutte quante carte girate che vedete c'è sempre una lettera le lettere che ci sono sopra sono sempre H, A, M, HEM formano la parola quindi quando voi riuscite a prendere 3 di queste carte e formare la parola HEM le dovete scartare queste carte e potete fare qualcosa di particolare ovviamente che vi aiuta ad andare più avanti nel gioco comunque il giudice del momento che è il primo giocatore che decide di fare il giudice il regolamento dice quello più vecchio, quello più anziano decidete voi, non è un problema prende e gira una carta la carta la legge per quello che c'è descritto sopra e tutti quanti i giocatori, qui siamo in 5 quindi facciamo conto che il giallo è il giudice gli altri a testa hanno 10 carte in mano di queste rosa che vedete poi i mazzi sono un casino quindi non ci sono solo queste è inutile spacchettarle tutto comunque ognuno ce n'ha 10 in mano mettiamo caso, il giocatore A gioca questa il giocatore B gioca questa le prendo un pochino a caso perché magari danno risposte che non c'entrano niente questa e questa il giudice vi pone davanti una storia come vedete, quello che c'è scritto e qui nella regola lo dovete riempire voi con una risposta che può essere di qualsiasi tipo ci potete mettere anche una cosa che non c'entra niente ero lì quella mattina all'alimentari quando è successo che un elefante è passato per strada non vorrebbe dire niente, infatti è collegata male però se non avete altre carte ce la potete buttare una volta che tutti hanno buttato la propria carta il giudice dice ok ha vinto questo perché c'ha la risposta che mi garba di più è quella che mi ha fatto più ridere tra l'altro vi do un consiglio per quanto è il gioco in inglese leggete questa cosa qui però ogni tanto sono belline anche le scritte che ci sono in fondo perché descrivono un po' la risposta che avete dato la cosa di folli ecco fa più da contorno comunque leggete la vostra risposta vedete anche la risata che secondo me questo gioco funziona bene dovete essere onesti fra di voi in un gruppo affiatato perché più fate ridere quello che fa più ridere il giudice il giudice dovrebbe dargli il punteggio a lui perché se questo è il giocatore B e il giudice vuole far vincere la partita al giocatore B ogni volta tutti si mettano d'accordo ok la più bellina l'ha detto il B e lui quando poi toccherà a quest'atto sì la più bellina l'ha detta l'A andate onesti perché non ci sono delle regole particolari però cercate di far vincere veramente chi se la merita e chi va fatto ridere di più poi magari datevi consigli anche fra di voi sì ma forse quella di Andrea era più bellina rispetto a quella di Roberto e cose varie quindi quello guardate un po' voi quando tutti sono stati decisi magari il giocatore B è quello che ha detto la cosa più bellina tutte le carte rosa giocate si scartano se ne pescano tante fino a riaverne 10 in mano quindi ne avete perché in alcune carte se ne possono giocare anche di più perché a volte ci sono delle carte del giudice che dice decide il giudice quante carte dovranno essere giocate giudice potremmo anche dire 8 8 a testa quindi ne dovete ripescare casualmente coperte fino a averne un'altra volta 10 in mano una volta che il giocatore magari come vi ho detto il B si è aggiudicato questa carta gira guarda che lettera c'è dietro è l'A se non va a formare la parola HEM se la mette da parte che gli serve per fare delle cose che ora vi dico se va a formare la parola HEM invece guadagna dei punti e delle cose varie che deve scartare e utilizzarli per avere la meglio comunque le regole vogliono che quando prendete una carta griscia la mettete dalla vostra parte del tavolo e guardate i valori che ci sono sotto c'è scritto 2 e 9 quindi mettiamo caso che sia il giocatore questo qui il celeste lui si potrà muovere di una o l'altra le distanze che sono segnate sotto quindi o 2 o 9 banale uno potrebbe dirvi si uso 9 così vado più veloce e arriva all'uscita si ma se arrivi all'uscita e non c'è punti ha perso perché non è che chi prima arriva alla fine ha vinto la partita chi arriva alla fine ha concluso la partita però poi è una gara ai punti infatti in questo gioco si può andare come su talisman vi potete muovere in una direzione o in un'altra ma non nella stessa nello stesso turno non puoi fare 7 passi avanti e 2 indietro no se hai preso una direzione segui quella però puoi tornare in quella dopo anche sotto i passi quindi potrei dire mi muovo di 2 o qui o mi muovo di 2 di qua oppure mi muovo di 9 passando da qui o dove voglio io le caselle con dei numeri numeratevi consentono di fare altre mosse obbligatorie cosa vuol dire se io concludo la mia mossa qui finito perché c'è uno 0 ma se io concludo la mia mossa qui o qui perché voglio prendere questa strada la casella sotto mi dice 3 quindi sono obbligato a muovermi di altre 3 e potrei tornare o indietro o andare avanti con la differenza che quando è la casella che mi dice di quanti caselle dopo andare avanti di quanti step non prendo il bonus dove vado a finire rispetto a quando mi ci fermo volontariamente perché quando vi fermate in delle caselle colorate tipo questa qui mi fermo su questa vedete che è una casella gialla e quindi dovete andare a pescare una carta gialla dal mazzo giallo se mi fermo invece su una casella rossa devo andare a prendere una carta rossa e così via sono tutte carte che potete tenere in mano oltre a quelle che già avete perché quelle rosa devono essere 10 quelle altre le potete tenere anche a parte però anche quelle andranno utilizzate nel momento più opportuno ci sono varie regole tipo ad esempio se io sono fermo in questa casella in questa qui e qualcun altro arriva nel suo turno sulla mia stessa casella non mosso da un numero ma col suo movimento può spostare quelli che sono presenti con lui nella stessa casella li può spostare indietro fino a un checkpoint i checkpoint vi ricordo sono quelli bianchi quindi nel caso siamo ancora dentro questo quadrato lo posso spostare qui o lo posso spostare qui nel caso fossimo di qua lo potrei rimandare indietro qui o qui nel caso fosse più avanti qua giù lo potrei mandare qui quindi è un po' come mangiare e ributtare indietro e ci sono poi altre regole particolari che addirittura vi dicono prendi fai pescare una carta di un colore ad un altro giocatore che ti pare a te gliene fai pescare una quindi gli metti una carta in mano che poi ti potrebbe usare contro o comunque la potrebbe usare per vincere fare più punti e cose del genere però te dando quella carta a lui ti puoi muovere automaticamente di altre caselle quindi è tutta una corsa a fare il punteggio ma soprattutto non arrivate all'uscita senza punti in mano perché non serve a nulla arrivare in fondo con tre carte grise in mano gli altri giocatori ce ne hanno otto e voi fate la corsa verso la fine non guadagnate nulla perché i punti che poi andate a guadagnare a parte la parola HEM sono queste carte qui quindi è tutto un giocatore fa il giudice mette una carta in campo di quelle che ha in mano gli altri giocatori usano uno più carte a testa a seconda di quello che c'è scritto nelle disposizioni qui e il giudice decide chi sarà il vincitore che ha vinto il giocatore che ha vinto si prende la carta grigia e nel nuovo turno che verrà diventa lui questa volta il giudice ragazzi bene o male le regole sono tutte qua il gioco è divertente il gioco è immediato è un pochino più articolato rispetto a Cards Against Humanity quindi leggermente di più ed ha due varianti una variante semplice infatti nel librettino c'è scritto se sei un brutto pezzo di senza problemi e non hai voglia di leggerti il regolamento intero leggiti questo più piccolino cioè quindi già vedete che come è buttato nel senso che tipi di terminologie si vanno ad utilizzare di aggettivi dispregiativi però è tutto fatto per ridere ovviamente e come torno a ripetere è un gioco che secondo me potete mettere a qualsiasi tavolo anzi farete ragazzi se ci giocate con qualcuno anche se non avete un canale youtube fateci un video per rivederlo più avanti e che vengano fuori delle cose disumane magari una carta che potrebbe mettere il giudice giù potrebbe essere allo scoppio di una nuova guerra mondiale e voi dovete giocarci ognuno dei giocatori gioca una carta rosa e poi il giudice deve decidere qual è quella più divertente perché è tutto basato sulla risata quello che colpisce di più quindi allo scoppio di una nuova guerra mondiale uno potrebbe mettere una carta ci armiamo con dei polli esplosivi e li mettiamo su per il dei nostri nemici magari quell'altro potrebbe dire non lo so iniziamo a mangiare tanti facioli per ammazzarli tutti da di dietro e quindi a parte la risata è il giudice del momento che decide quale carta è più bella come va avanti la storia e a che affidare il punteggio che poi chi vince la prova diventa anche il nuovo giudice è un gioco veloce è un gioco carino è un gioco secondo me immediato è un gioco che potete portare a tutti i tavoli quindi è un punto anzi anche di più a favore e se devo dargli un voto gli do assolutamente un 8 su 10 che per me è meritatissimo mia moglie ha avuto modo anche di giocare a Cards Against Humanity però forse questo è ancora più trusce ed ancora più bellino e secondo me è un titolo molto interessante comunque ragazzi se lo volete acquistare vi ricordo direttamente da Board Game Discount in sovrimpressione primo link in descrizione ai migliori prezzi sul mercato e visto che tante volte me l'avete fatto notare a volte vi presento dei giochi che Board Game Discount non ha io vi ricordo che quando acquistate da Board Game Discount scrivetegli un messaggio privato arrivo dal canale di Cordian anzi potrebbe avere questo gioco che non ce l'avete in lista e ve lo fanno avere ovvio se è reperibile se è fuori stampa no faranno il possibile per farvelo avere per farvelo pagare il meno possibile sul mercato quindi meno che da loro non lo pagate nemmeno se veramente vi ingegnate a girare e soprattutto mi raccomando fatevi presente che arrivate dal mio canale perché vi trattano ancora meglio con i guanti fatemi sapere cosa ne pensate con un commento ragazzi se cercate il gioco per ammazzarvi dalle risate pronto eccolo ciao ragazzi alla prossima ciao